Abbiamo parlato questa mattina di visione, ci vogliamo occupare in questa giornata dei tecnicismi ma anche della visione di insieme e chi meglio della Farnesina ci può portare la visione di insieme sul tema delle sanzioni economiche internazionali che per noi non devono mai essere preludio alla guerra ed è molto importante questo. Ce ne parla oggi la consigliere Valeria Bistrocchi che è vicario attualmente dell'ufficio primo cooperazione finanziaria internazionale politiche globali per la stabilità e la crescita presso la direzione generale per la mondializzazione delle questioni globali, i titoli sono sempre lunghi del Ministero degli Esteri. A lei la parola e grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti e ringrazio per l'invito a partecipare a questa iniziativa che è utilissima non solo per poter portare quella che è la prospettiva, il lavoro della Farnesina ma anche per ascoltare interventi, devo dire, finora utilissimi anche su settori che magari non abbiamo la fortuna di trattare quotidianamente. Il Ministero degli Affari Esteri accoglie sempre questi inviti a partecipare ad iniziative appunto di questo tipo perché sono un'occasione per noi utilissima per un'interlocuzione con le imprese che non costituisce magari il nostro core business quotidiano che è assolutamente utile per inquadrare il fenomeno delle sanzioni e per inquadrare anche quello che noi facciamo e quello che noi possiamo fare. Quindi grazie e grazie ancora. Non cercherò di essere esaustiva di parlare di tutti i regimi anche perché nella mattinata si è parlato benissimo dall'introduzione dell'Avvocato Padovan di sanzioni internazionali. Quello che vorrei semplicemente diciamo delineare sono un paio di elementi sul panorama generale e su quello che è un fenomeno a cui si stiamo assistendo sempre in maniera crescente cioè quella della differenziazione quindi del disallineamento tra i regimi sanzionatori relativi ad alcuni paesi. A riprova della centralità dello strumento delle sanzioni internazionali basta citare il fatto che la sola Unione Europea ha attualmente in vigore circa una quarantina di regimi sanzionatori che quindi l'Italia ovviamente è tenuta ad applicare. Sono regimi sanzionatori in gran parte mutuati da quelli forse non è stato ancora detto delle Nazioni Unite quindi che riprendono diciamo norme già stabilite dal Consiglio di Sicurezza ma ci sono anche per alcuni paesi ex novo e per altri parzialmente delle misure autonome aggiuntive dell'Unione Europea. In gran parte sono regimi geografici abbiamo parlato di questi e sono quelli più importanti però sempre per intracciare diciamo un trend futuro e un possibile elemento di interesse per ora probabilmente non attuale per le imprese ma in futuro che potrebbe divenirlo l'Unione Europea segnalo dal 2018 a questa parte ha introdotto i due primi regimi sanzionatori orizzontali cioè che intendono colpire delle condotte determinate e facendolo diciamo sanzionano persone fisiche o giuridiche indipendentemente da lo stato a cui queste appartengono. Questo è potenzialmente un settore di grande rilevanza i cui esiti e diciamo il cui andamento è difficile da delineare. Uno dei due regimi il più recente di maggio è proprio quello per gli attacchi cibernetici. Si tratta al momento di un regime che non prevede disegnazioni concrete cioè la cosiddetta empty list però diciamo in futuro potranno essere appunto designate persone che intendono arrecare o che hanno arrecato si augura la prima attacchi cibernetici esterni all'Unione Europea ed è un settore vastissimo perché si intende qualunque attacco proveniente di fuori dall'Unione Europea o da soggetti che non ne fanno parte. L'altro regime è quello invece già attuato dall'anno scorso e che comprende già alcuni primi individui disegnati è quello sulle armi chimiche e la proliferazione dove al momento vi sono ancora pochi nominativi individui siriani e i primi individui russi ritenuti avere un ruolo nel cosiddetto caso Skripal insomma che ha avuto un enorme eco mediatico. Un piccolo inquadramento sul quadro generale europeo poi ci sarà insomma il collega della Commissione che lo dirà molto meglio. Sicuramente possiamo affermare che lo strumento delle sanzioni è al momento centrale nella politica estra dell'Unione Europea. In questo l'Italia ha un'assoluta convergenza con la visione dell'Unione Europea nel senso che noi vediamo le sanzioni come uno degli strumenti della diplomazia internazionale e europea non l'unico e non quello esclusivo e abbiamo sempre cercato e c'è convergenza di vedute di fare in modo che esse fossero sempre diciamo improntate a dei principi ragionevoli di gradualità di proporzionalità e di reversibilità il che vuol dire che se il regime porta al suo diciamo raggiunge il suo obiettivo e l'obiettivo cioè porta a un cambiamento della condotta del paese sanzionato il regime può essere sospeso o in caso appunto gli obiettivi siano completamente raggiunti revocato. Abbiamo al momento proprio dei giorni scorsi la notizia del 17 giugno del diciamo venire meno della revoca di un regime sanzionatorio quello nei confronti delle Maldive che corrispondeva ad uno specifico momento storico del paese a seguito insomma dell'instabilità politica e di violazioni diciamo consistenti dei diritti umani e costituzionali che per un miglioramento della situazione politica è stato appunto nei giorni scorsi revocato e ovviamente l'ultimo elemento fondamentale di questo quadro è a nostro avviso ed è una linea diciamo ferma del nostro governo quello che lo strumento sanzionatorio ovviamente non ha un fine punitivo e puramente punitivo ma appunto ha un fine molto chiaro quello del cambiamento appunto del comportamento e del quadro relativo ai comportamenti diciamo attribuiti al governo che subisce il regime. A questo quadro che è già abbastanza complesso si aggiunge appunto come dicevo il fenomeno a cui stiamo assistendo negli ultimi anni in particolare negli ultimi due anni c'è quello del crescente disallineamento del quadro sanzionatorio dovuto al sempre più frequente ricorso unilaterale da parte statunitense allo strumento delle sanzioni che ha comportato sicuramente un aggravamento del quadro per noi ma soprattutto per gli operatori e per chi si trova quotidianamente ad avere a che fare con le sanzioni e a doverne capire il perimetro di applicazione. È sicuramente un aspetto suscettibile di avere un impatto nel prossimo futuro concreto sull'operatività delle imprese nello specifico in tutti quei casi non passerò e rassegna tutti i regimi per dire quale normativa statunitense ha efficacia extraterritoriale anche perché non è facile come diceva prima l'avvocato Padovan al 100% capirlo dato l'ampio set di misure che si sovrappongono e il diverso livello anche delle autorità che le emanano però effettivamente ci sono molte previsioni in cui le misure statunitense contrariamente a quello che l'Unione Europea può intende fare hanno appunto diretta applicazione nei confronti di soggetti non US quindi non statunitensi. I regimi più importanti che sono oggetto della trattazione di oggi sono ovviamente quello della federazione russa e dell'Iran. Si è già parlato, ha già parlato il collega dottor Castellano del MEF di quello che prevede il residuo quadro diciamo il quadro sanzionatorio appunto europeo nei confronti della Russia delle misure soprattutto settoriali. Spendo magari due parole sulle misure americane con una premessa anche a livello europeo è in corso attualmente diciamo una riflessione politica sulle sanzioni alla Russia e sull'opportunità di queste sanzioni. L'Italia recentemente ha rivendicato sia a livello diciamo politico che a livello tecnico la necessità che qualunque futura discussione sul rinnovo venga fatta sulla base di valutazioni molto accorte che tengano conto anche degli obiettivi di questi regimi e degli effetti sull'economia nazionale e sull'economia russa. Diciamo detto sinceramente in questo momento non ci sono ovviamente le condizioni perché un regime del genere venga meno essendo legato espressamente alla tenuta diciamo al rispetto alla tenuta degli accordi di Minsk però insomma è un quadro di cui tener conto appunto c'è una posizione forte da parte nostra che è stata appunto espressamente indicata di valutazioni periodiche e mai di nessun automatismo nel rinnovi. Per quanto riguarda le misure diciamo americane sicuramente hanno introdotto degli elementi di rilievo vietando appunto i soggetti statunitensi di intrattenere rapporti finanziari e commerciali con la Russia ma anche imponendo appunto misure che hanno applicazione extraterritoriale. Il più importante già citato è il Country in America's Adversary Through Sanctions Act famoso con il nome di Cazzo nel 2017 che ha introdotto diciamo sanzioni extraterritoriali in un ampio numero di settori e cui poi ha fatto seguito l'anno scorso una coppia diciamo di designazioni una di oligarchi e altri funzionari dell'establishment russo e di società da questi possedute controllate e l'altro le sanzioni annunciate in conseguenza del caso Skripal su cui vi è peraltro insomma una riflessione anche diciamo sulla continuazione e sul possibile listing di ulteriori soggetti. Il disalignamento in questo caso è come dire deriva semplicemente, non deriva da una diversa valutazione della situazione quindi c'è convergenza politica, le due lati dell'oceano deriva da sette di misure diverse a loro volta riconducibili anche a diversa approvazione delle norme. Il disalignamento più marcato è indubbiamente come sappiamo tutti quello sull'Iran dove effettivamente essendoci da parte dell'Unione Europea una chiara volontà politica di preservare la tenuta del JCPOA finché Teheran continuerà a farlo e quindi un forte interesse a individuare strumenti concreti che permettano di proseguire diciamo il commercio, le attività economiche e commerciali con l'Iran ovviamente pone le due situazioni diametralmente all'opposto. Non mi dilungo su Instex e sull'andamento solo appunto aggiungo rispetto a quello che ha detto il collega del MEF vi è oggi una riunione tecnica a Bruxelles convocata dal SEAI proprio per discutere degli aspetti tecnici restano molti aspetti tutt'oggi da definire per cui insomma non sappiamo dire in questo momento se e quando appunto sarà operativo, la volontà politica c'è e l'Italia fa parte del gruppo di stati membri interessati a diciamo approfondire e a valutare un possibile appunto diciamo inserimento nella constituency al momento formata solo dai tre fermatari del JCPOA quindi Francia, Germania e Regno Unito. Sappiamo che queste misure hanno avuto un fortissimo impatto ovviamente sulle imprese italiane e europee non cito casi concreti ma molte imprese soprattutto per le difficoltà finanziarie derivati dalla soppressione dei canali di pagamento e dalla disconnessione della gran parte delle banche iraniane dal sistema SWIFT appunto sono state costrette a diciamo a lasciare il mercato. Un'ultima considerazione rispetto proprio al quadro generale è chiaro che le sanzioni hanno un costo, un costo economico che ovviamente si ripercuote soprattutto sugli imprenditori. Questo costo è a nostro avviso ancora maggiore quando si verificano fenomeni consistenti di disallineamento ovviamente le sanzioni hanno un costo informativo ovviamente quello di dover acquisire informazioni aggiornate e puntuali sul regime applicato e su cosa si può e non si può fare è anche un costo connesso al rischio il rischio di un'operazione finanziaria o di incorrere involontariamente in sanzioni chiaramente più il quadro operativo diventa complesso più questo fenomeno rischia di aggravarsi vi è poi una considerazione generale ovvia un regime sanzionatorio è quanto più efficace, quanto più uniforme a livello di regole e tanto più applicato in via uniforme da parte di tutta la comunità internazionale quindi questo è sicuramente un quadro da tener conto insomma e vale per qualunque regime riteniamo, non sappiamo come e quando evolverà e in che modo evolverà il panorama diciamo delle sanzioni sicuramente saranno un fenomeno ancora centrale per molti anni visto le poche cose che ho cercato di dire fino adesso e è qualcosa di cui bisognerà tener conto d'altro canto diciamo nelle interlocuzioni che abbiamo anche come ministro degli esseri con le aziende quello che diciamo sempre è di prestare la massima attenzione all'over compliance ci sono opportunità di business, di investimento alle quali non si dovrebbe rinunciare e sebbene in una strategia di derisking che credo sia normale appunto per il settore privato sia assolutamente legittimo e come dire intuitivo ovviamente ritirarsi dalle operazioni più rischiose insomma avvertiamo ovviamente una nota di cautela perché ancora ci sono dei margini residui con la Russia ma anche seppur con difficoltà con l'Iran diciamo quindi insomma iniziative come queste sono ovviamente utilissime per permettere a ciascuno di dare come dire la sua parte di informazione e per permettere di interagire insomma al settore pubblico efficacemente con il settore privato ma ovviamente il consiglio che diamo qui così come nella nostra rete estera quando ci troviamo ad assistere imprese che incorrono, temono di incorrere in sanzioni e quello di ovviamente affidarsi a partner anche legali con assoluta dimestichezza diciamo per quanto riguarda il dossier delle sanzioni non si può più operare e lavorare senza ecco credo di aver detto tutto, sono ovviamente disponibile poi per domande anche se ho sforato i tempi bilateralmente a margine insomma grazie mille grazie molto consigliere per l'intervento molto efficace e pragmatico è molto interessante l'enfasi che ha posto sugli aspetti economici delle sanzioni sull'impatto come costi per le imprese costi di compliance che aumentano nel momento in cui c'è un disallineamento sono riflessioni da avere sempre ben presenti grazie a tutti